buonasera buon lunedì siamo all'ottava puntata di aspettando le amministrative questa sera parleremo di alcune cose che ci avete chiesto voi cosa ci chiedete bonus come funzionano a chi spettano e soprattutto ci avete chiesto di vi è piaciuta la cosa che ognuno ogni ospite raccontava un po la loro alla propria storia quindi a me sta cosa è piaciuta che voi l'avete recepito in modo positivo e quindi l'ho riproposto naturalmente per salutando i vari ospiti vi accorgerete che ci sono dei volti noti e quindi praticamente loro non diranno la loro storia ma gli altri nuovi sì allora innanzitutto buonasera ad antonio cozzolino buonasera a fabrizio cantella buonasera a massimo santoro buonasera a luca buonasera a tutti buonasera a dottor galdo buonasera dottor buonasera che bello allora partiamo subito come di consueto antonio ci possiamo dire tu assolutamente perfetto noi vorremmo sapere i telespettatori vorrebbero sapere in che modo di cosa si occupa tu sei un imprenditore di che ramo cosa fai e soprattutto come lo fai prego sono un imprenditore tessile mi occupo di moda sostanzialmente aziende di terza generazione cominciamo nel 1975 quindi abbiamo avuto un'evoluzione dal punto di vista produttiva partivamo come produttori e commercianti di foderami quindi materia tessile per confezionare abiti da uomo poi nel corso degli anni ci siamo evoluti diventando importatori e diciamo distributori a livello nazionale ed internazionale di prodotti da uomo capo spalla quindi parliamo di tessuti scusami il capo spalla per chi non è attento capo spalla vuol dire il cappotto lo spiegalo nel dettaglio perché capo spalla è una cosa giustamente tecnica vostra però quindi andando dalla tecnicità diciamo la cosa di facile interpretazione produciamo tessuti per confezionare giacche pantaloni e abbiamo anche avuto nel corso degli anni una capsule per la camiceria quindi per confezionare anche quindi rappresenti in pieno quello che è praticamente la laboriosità del made in Italy assolutamente sì diciamo copriamo la filiera della moda a 360 gradi producendo tessuti per l'uomo e da qualche diciamo da qualche mese da qualche semestre diciamo dall'inizio più o meno del secondo lockdown ci siamo evolute ci siamo adeguati al settore importante commercializzando prodotti tessili per il mare quindi diciamo che per voi diciamo i vari lockdown le varie zone rosse il covid e non è diventato solo una difficoltà ma un modo per raggiungere l'ingegno e quindi per diversificare i vostri interessi io dico sempre che durante le difficoltà si incontrano mille opportunità è vero che il settore del mondo è stato uno di quelli più colpiti Albert Einstein di questa frase ha fatto diciamo diciamo di sì un po sull'opportunità ti dico è un po' il fatto dell'ingegnosità anche è un po intrinseco nel dna dell'essere napoletano dell'essere campano dell'essere del meridione senza nulla escludere alla laboriosità delle persone del nord solo è che comunque noi in qualche maniera a Napoli si dice ci dobbiamo arranciare e non possiamo assolutamente aspettare che qualcuno o qualcosa possa cambiare lo status quo uno status quo che conosciamo essere comunque non ha supporto ed affiancamento degli imprenditori e delle imprese comunque sono meritevoli per quello che hanno fatto durante la storia imprenditoriale e quindi ci siamo inventati un nuovo settore diciamo che tu rappresenti in pieno l'orgoglio dei partenopei i partenopei laboriosi quelli che praticamente partono con un progetto e poi lo modificano in base al al cambiamento alle esigenze quelle che sono le esigenze sia di colori quali comprano ma anche del mercato benissimo bello l'intervento di antonio rappresenta comunque l'orgoglio nostro per quanto riguarda fabrizio fabrizio che lavoro fai io organizzo fiere o meglio diciamo che negli ultimi 24 anni ho organizzato fiere ora da un anno a questa parte che abbiamo dovuto necessariamente eh fermarci come buona parte dell'Italia vi siete fermati con le fiere con le fiere assolutamente anzi eh con le fiere è stato un amore a prima vista in realtà la principale fiera che noi organizziamo è la borsa mediterranea del turismo che è una fiera per l'appunto dedicata al turismo e che ci auguriamo di poter fare dal 28 al 30 maggio alla mostra oltre il mare di Napoli ora eh il l'organizzazione di una manifestazione turistica prevede tempi molto lunghi quindi noi organizziamo una fiera un anno per l'altro il che significa che sono due anni che stiamo organizzando questa fiera quindi verrà perfetta mi raccomando è è importante partecipare che devi dire al pubblico però quest'anno la tua fiera è sempre bellissima io sono sempre ospite e mi fa sempre piacere intervenire anche perché c'è un matching eh importante tra gli operatori e le agenzie di viaggio e tutto il comparto perché ricordiamo che le fiere che tu organizzi non sono solo del settore turistico alberghiero ma tu hai sicuramente dei collaboratori che ti montano gli stand quelli che si occupano delle luci la sicurezza soprattutto tu sei molto attento il distanziamento e quant'altro tu la fai all'aperto quest'anno una cosa bellissima sì la novità di quest'anno è stata proprio questa noi ci siamo dovuti adeguare a quelle che sono le nuove esigenze e quindi abbiamo sfruttato come diceva Albert Einstein come diceva Cozzolino diciamo come diceva Cozzolino non mi piace di più l'opportunità che ci si è presentata quindi BMT open air in realtà utilizzeremo anche l'area esterna della nostra coltremare questo ci permetterà di dare libero spazio ad alcune attività come ad esempio la regione Trentino che monterà una palette di arrampicata all'esterno e permetterà agli agenti di viaggio e agli addetti ai lavori del settore presenti in fiera di arrampicarsi e di provare questa esperienza la manifestazione è interessante e rappresenta il turismo a 360 gradi il turismo è un argomento bellissimo un argomento che ovviamente affascina tutti noi tutti oggi siamo come dire costretti a fare i conti con quelli che sono i nostri ricordi piuttosto che non con l'organizzazione di viaggi che vorremmo fare a breve proprio perché siamo in un certo senso prigionieri di questa situazione però la BMT in generale l'inizio della stagione sarà l'occasione per tutti noi per poter scegliere con attenzione delle nuove destinazioni Napoli è una città bellissima e splendida e chiaramente sarà assieme alla regione Campania una delle tante cose che noi promuoveremo il turismo verso la regione Campania Anche perché ricordiamo che anche il settore turistico alberghiero ricettivo insieme a quello delle fiere hanno un enorme indotto Si, si calcola che per ogni euro investito in una fiera ne ritornano 9 sul territorio è un calcolo che significa che sul territorio Campania il comparto fiere produce circa 150 milioni di euro ogni anno Il che purtroppo facendo una valutazione di quello che è successo nel 2020 significa che li abbiamo persi totalmente Le fiere sono... Quindi non abbiamo perso i 150 ma i 150 per 9 che superano il miliardo di euro Ricordiamo che tutto l'Imu che noi paghiamo come italiani sono 3 miliardi Se un miliardo e passa si è perso è tanta roba E tra l'altro è ovvio che l'indotto è trasversale quindi abbraccia un po' tutti i settori Noi abbiamo ogni volta che organizziamo una fiera circa 20-25 mila visitatori Che significa che ci sono 8-10 mila camere d'albergo che vengono bloccate Notti più che camere d'albergo Ti posso fare una domanda romantica Fabrizio? Certo Tu che organizzi la fiera mi hai detto due anni prima questa qua sarà perfetta Noi hai detto quando vedi i saloni pieni cosa provi? Ah è una grandissima soddisfazione Diciamo che noi per mesi immaginiamo tutto quello che poi accade Ed esplode nell'arco di tre giorni Quindi in soli tre giorni noi vediamo il risultato di un lavoro che è durato un anno Ed è una grande soddisfazione anche il fatto di essere riusciti ad organizzare una manifestazione internazionale a Napoli E' un po' il fiore all'occhiello del turismo della regione Campania E ovviamente noi provoiamo tutto il turismo che esiste Quindi non solo quello campano ma anche un po' tutte le regioni italiane E principalmente Italia nell'anno 2020-2021 Perché chiaramente abbiamo queste limitazioni Però da noi in fiera espongono enti del turismo di tutto il mondo Dalla Repubblica Dominicana a Cuba Dalla Croazia alla Grecia E' chiaro che ci sarà Dubai perché ci sarà l'Expo nel 2021 Ci sarà la Thailandia Un po' tutte quelle che sono anche le destinazioni più esotiche Quindi è interessante dire che una visita alla manifestazione feristica Permette di sognare oltre che di programmare un viaggio nell'immediato Anche perché in questo momento tanti sognano di viaggiare e non possono farlo Quindi diciamo il tuo, oltre che essere una questione lavorativa e di business Sicuramente anche un augurio di poter presto ritornare a viaggiare Certo Perfetto Allora parliamo adesso di una cosa Prima di carattere un po' più particolarmente interessante dal punto di vista umano E poi con Massimo faremo una desamina dei vari bonus che ci sono Gennaro Molti ascoltatori Spesso In modo anche un po' tragico e anche un po' violento Dicono non ce la faccio più Io voglio farla finita Non riesco a pagare i debiti Mi è arrivato l'ingiunzione di un avvocato Dica nicattì perché non ho pagato una cosa Mi hanno staccato nel capannone della corrente Oggi non ho i soldi per andare a fare la spesa con mia moglie Non mi sento più utile alla famiglia Che cosa, di cosa abbiamo bisogno in questo momento per resistere ed essere resilienti in questo periodo? Innanzitutto di recitare un mantra La crisi non è colpa mia La crisi non è colpa mia La crisi non è colpa mia Il senso di insufficienza Di sofferenza Derivano soprattutto dal fatto che Le persone in difficoltà si attribuiscono la responsabilità di queste difficoltà Mentre è molto chiaro Che la crisi non è colpa mia La seconda cosa che suggerirei è riflettere su una poesia Una poesia molto bella Che credo che rappresenti la nostra condizione umana Sia come individui che come gruppi Aziende, istituti di cultura, eccetera Questa poesia la scrisse Giuseppe Ungaretti Nei Intrincea Durante la prima guerra mondiale E si intitola proprio Intrincea E i versi sono i seguenti Si sta come d'autunno Sugli alberi le foglie Credo che tutti quanti sappiamo come stanno le foglie sugli alberi d'autunno In attesa di cadere E ovviamente Ungaretti si riferiva Alla precarietà della condizione umana Soprattutto nella condizione Di una guerra Che sembrava senza fine Senza vinti né vincitori Con milioni di morti E assolutamente senza motivi Veramente Importanti Ricordo che Pio Nono la definì Un'unitile strage Questa poesia ci rimanda anche alla condizione umana odierna Io vorrei farvi vedere un piccolo sperimento Questo è un mazzo di chiavi È un corpo Grazie Massimo Per quante volte io getterò questo corpo per terra Il suo moto non cambierà Si tratta di un moto rettilineo uniforme La cui energia Che viene detta energia cinetica Che si indica con la lettera K È uguale a un mezzo Della massa Per la velocità al quadrato Questa formula fu scoperta da Madame du Châtelet All'inizio del Settecento e dal suo amante Voltaire In un castello della Marna Ma questa sarebbe Una storia bellissima da raccontare Non abbiamo il tempo Comunque ricordate la fermata di Châtelet Che sta vicino Al quartiere latino A Parigi Ecco Quella fermata è intitolata proprio Alla scopertrice Della formula Dell'energia cinetica E non solo Lei tradusse addirittura I principi a matematica di Newton in francese In maniera da volgarizzarli Ora prendiamo un altro oggetto Questo Che potrebbe assomigliare a una foglia E lasciamolo cadere Queste volte mi devo alzare io È caduto qua È caduto là Eccetera Non cadrà mai nello stesso posto Perché? Perché Con questo funziona La causalità lineare Cioè c'è una causa La gravità E c'è una legge Che la regola E quindi perfettamente Prevedibile Con questo invece Che cosa funziona? Funziona il fatto Che cadendo La foglia Sposta Dell'area Questo spostamento d'aria Provoca un cambiamento Della direzione Questo cambiamento Della direzione Provoca uno spostamento D'aria E così via Non sono più distinguibili Le cause Dagli effetti Questo tipo di causalità Si chiama causalità circolare E tra l'altro è anche la base Del concetto di economia circolare Che ricordo a tutti È un'economia nella quale si prevede Che l'uomo restituisca la natura Ciò che dalla natura prende Per produrre le sue merci E quindi non è attento solo Al PIL Prodotto interno lordo Ma è attento anche A restituire alla natura Che è un patrimonio È una ricchezza comune Che noi possediamo Quello che dalla natura Si prende La condizione umana quindi Che assomiglia alla foglia Chiaramente È una condizione del tutto precaria Imprevedibile Dove causa ed effetto Si alternano Girandola pazzesca Allora Noi dobbiamo immaginare Che in un'economia Così come in tutte le altre Diciamo Attività umane Non si può andare In una condizione di assoluta precarietà Quindi dovremmo far Ricorso O a ventilatori O ad aspiratori Per direzionare E rendere prevedibile Il movimento Quali sono questi condizionatori E queste Nella vita umana Sono Essenzialmente Le relazioni Significative Che noi Contraiamo Nella vita Sono quelle La nostra vera ricchezza Dobbiamo fare Ogni tanto Gli estratti conto Delle relazioni umane Che possediamo Possediamo Nel senso Ovviamente Vedete Gli antichi Mettevano le emozioni Nel fegato Un po' più E quindi si diceva Simpatico Perché metteva insieme i fegati Simpatico Sun Pathos Insieme Fegati insieme Poi i latini Dissero che stavano Nel cuore E si diceva Di un uomo O di una donna E cordiale Perché stare insieme Con gli altri Poi alla fine Gardner Qualche anno fa Diciamo Ha teorizzato L'intelligenza Interpersonale E la messa Nel cervello Oggi io vi dico Che di fronte a Quello Concludiamo Dottore A questa esperienza La montata è breve A questa esperienza La nostra mente Non sta dentro Il nostro cervello Il nostro cervello Non produce Il pensiero Il pensiero Lo producono L'insieme Delle relazioni Significative Che contriamo Nella vita E se Le tagliamo Con il Distanziamento sociale Con la cosa Eccetera Ecco che nasce La notte Della ragione Che può generare Dei mostri Sia a livello Individuale Che a livello Collettivo Perfetto Quindi bisogna Tare presente Queste due cose Una poesia E un mantra La crisi Non è colpa mia Dopo lo facciamo Ultimamente insieme Allora Rapidissimamente Massimo Abbiamo Domanda Io ho fatto Il bonus Vacanze Ma non l'ho ancora Speso Allora facciamo vedere Un attimo Dalla regia Peppe ti prego Di mandare il contributo Bonus vacanze Direi un attimo Una resamina Che abbiamo fatto Chi ne ha diritto Tutti i nuclei familiari Con ISEE Non superiore A 40.000 euro Si può ancora Richiedere? Assolutamente no Non facciamo impazzire Non facciamo impazzire I commercialisti I CAF Non si può più richiedere Si può ancora spendere? Sì Fino al 31 di dicembre Come si spende? Prego Peppe Valente Di mandare Il primo contributo Video Allora Bonus vacanze Voi ci chiedete A chi spetta Se si può ancora richiedere? Vi rispondiamo Brevissimamente Chi ne ha diritto? Tutti ne avete diritto? Ne avevate diritto? Tutti i nuclei familiari Con ISEE Non inferiore Ai 40.000 euro Per quanto riguarda Non superiore A 40.000 euro Si può ancora richiedere? Assolutamente no Si può ancora spendere Questa è tutta una serie Di domande Che ci avete posto? Si si può spendere Fino al 31 di dicembre In un'unica struttura ricettiva Come si può spendere? Questo lo domandiamo a massimo Come si può spendere? Allora Una volta che Chi intende usufruire Il bonus vacanza Ha ultimato Dice la procedura Sul canale telematico Dell'Inse Si è scaricato il QR code Però questo si poteva fare Non si può fare più Non si può fare più Ma chi non ha ancora utilizzato Lo può fare Fino al 31-12 del 2021 In quanto c'è stata una proroga Nell'ultimo decreto sostegni Però diciamo che 500 euro Spiegamolo bene Non possono essere tutti quanti Spese all'interno Diciamo dell'albergo Ma 400 euro? Esatto L'80% L'80% Può essere utilizzato Come sconto Sulla fattura Diciamo Della struttura ricettiva Presso cui abbiamo effettuato La vacanza Il restante 20% Viene messo come onere deducibile In dichiarazione D'erediti Quindi il commercialista Lo può mettere in F24 Direttamente Esatto Perfetto Quindi ovviamente Un bonus di 500 euro 400 euro Viene fatto lo sconto Direttamente dall'albergo Dal bed and breakfast Dalla struttura ricettiva La differenza è 200 euro Come onere deducibile Nel 7,30 O dall'agenzia di viaggi O dall'agenzia di viaggi Certo Tu Diciamo Tra i tuoi interessi Fate anche viaggi Viaggi dell'Aerone Ce ne parli un attimo? Sì Il gruppo Viaggi dell'Aerone Ha anche un'agenzia di viaggi L'Aerone Tour Ed è possibile utilizzare Il bonus vacanze Il bonus vacanze Ovviamente Per tutti coloro Che non l'hanno ancora utilizzato Hanno tempo fino al 31,12 Quindi È possibile prenotare anche un viaggio Che sia più strutturato Rispetto al semplice albergo Quindi Un viaggio In una capitale europea O una vacanza L'importante è che loro sanno Che praticamente Da quello che è il viaggio 2.000 3.000 4.000 Quanto si voglia 400 euro Lo danno a voi Come modalità di pagamento Esatto 200 euro Li Utilizzano in detrazione In F24 Perfetto Te ne sono capitate di queste pratiche Le accogliete Le accogliete Personalmente Non me ne occupo Però Tanti colleghi Che ne hanno raccolte diverse Sono molti I tour operator E le agenzie di viaggio Che lo utilizzano È stato un ottimo incentivo Diciamo che Sicuramente È stato apprezzato Molto dalle famiglie Che l'hanno utilizzato Perfetto Allora Altro bonus Prego Peppe alla regia Di mandare Il secondo contributo Che è Bonus Babysitter Allora Il bonus babysitter Si aggiunge Al concedo parentale Allo smart working Quindi non lo sostituisce Può essere richiesto Fino al 31 di giugno Di quest'anno Per pagare Servizi di babysitting Oppure centri estivi Oppure servizi Socioeducativi Territoriali Oppure centri Con funzione educativa O ricreativa Oppure Infine Servizi integrati Innovativi Per l'infanzia No Gli asili nido E questo poi lo chiederemo A Massimo Perché No Gli asili nido Può essere richiesto Per la sospensione Dell'attività scolastica In presenza Col figlio minore Di 14 anni Probabilità anche con i nonni Allora diciamo che Se avete Se vivete in una zona rossa Come la Campania E avete minori di 14 anni Voi avete diritto Al bonus babysitter Allora Massimo Due domande Ci fanno gli ascoltatori Il bonus babysitter A quanto ammonta? Allora Il bonus babysitter Ammonta Al massimo 100 euro settimanali Questo tecnicamente Vengono erogati In una sorta di Voucher Prepagati Dal valore nominale Ciascuno di 10 euro Che possono essere Cumulati per un massimo Quindi di 10 a settimana Sostanzialmente Quindi loro ci parlano Praticamente come normativo Perché gli ascoltatori Dicevano sì Ma per forza La babysitter Deve avere no Si parla ancora Di centri estivi Centro socioeducativo E altri centri Perché gli asili nido No Gli asili nido No perché non è Cumulabile con il bonus Degli asili nido Quindi per non Sovrapporre Un altro bonus Perfetto Esatto Allora domanda Come si fa la domanda Se lo possiamo dire? Allora la domanda Si fa sempre tramite I canali telematici Dell'Inps Iscrivendosi Diciamo Alla piattaforma Del libretto di famiglia Che sostanzialmente È la procedura Con cui generalmente Vengono erogati Le prestazioni occasionali E una volta Inseriti Fatto l'inserimento Sia la falta Del richiedente Sia del percepiente Cioè del familiare Che vuole essere Vuole utilizzare Il bonus Sia diciamo Del babysitter Allora Si fa la domanda E viene l'erogazione Una volta fatta L'istruttore Da parte dell'Inps Massimo perdonami Molti Cioè Tu parli molto bene Però molti Non lo sanno fare Gli vogliamo dare Tu ricapiti Per se puoi seguire Questa pratica Gentilmente Prego Per qualsiasi informazione In merito Alla richiesta Del bonus babysitter Ma qualsiasi altro bonus Attualmente Possa essere interessato Vi potete rivolgere A noi Scrivendo a Info Chiocciola Pratiche2m.it Con 2m Scritto 2 A numero E mia lettera Oppure potete Chiamarselo 08119812836 E noi Rispondiamo Sempre Assolutamente Sì A differenza Di alcuni Consulenti Siamo sempre Bene Allora Ora una domanda Una cosa Che è molto seria E poi praticamente Vorrei far intervenire Anche Cozzolini Pace fiscale Prego Peppe Alla regia Di inserire L'altra slide Sono bloccate Le riscossioni Fino Al 30 aprile Di quest'anno Sì E la domanda Che mi fanno a me Ma che faccio anche io E poi faremo Agli altri ospiti Ma se noi Stiamo ancora In zona rossa Noi Non incassiamo E molti Sono giusi Come si fa a pagare Entro il 30 Perché hanno dato Questa data di 30 Allora Speravano Speravano Che entro il 30 aprile La situazione Forse Doveva migliorare Cosa sappiamo Che difficilmente Accadrà Magari Magari ci sarà Un'ulteriore Proroga Allo stato Attuale Ci dobbiamo Attenere A questa Scadenza Quindi Dal 31 aprile Riprende Tutta l'attività Di riscossione Da parte Dell'agenzia Delle entrate Di riscossione Quindi pagamento Delle cartelle Sattoriali Derateizzi Però scusami Non si vocifera Nemmeno Uno slittamento Di tale data Al momento No È presumibile Che ne facciano altre Data Diciamo Il non Alleviarsi Della situazione Pandemica Ma al momento Non se ne parla Perfetto Cozzolino Domanda Un po' Diciamo Vera Qua si parla Di pace fiscale Di un blocco Del 30 aprile Ma tu Ti occupi Di abbigliamento E questi negozi Che stanno chiusi Come fanno A pagare Te i fornitori In che Condizioni Sono i tuoi clienti I clienti Sicuramente Sono nella condizione Nella quale Non possono Assolutamente Fare Fronte Ai pagamenti Verso i fornitori Tornando al discorso Della pace fiscale Quindi tu fungi anche Un po' da banca Lo vogliamo dire Diciamo Chissà Prima Della catena distributiva Si è dovuto Necessariamente Tramutare Anche da Servizio Di credito Verso i clienti Cosa che Per noi È insostenibile Anche perché Noi comunque Che importiamo Prodotti Dalla Cina E comunque Anche da altri paesi esteri Siamo anche noi Impegnati Con le banche Anche perché Voi il pagamento Lo fate a priori Anticipato Quindi ci siamo Sostituiti Alle banche E' anche vero Che le banche Poi in questa situazione Non ci sono venuti Assolutamente D'appoggio Che tipo di problematiche Hai ricevuto Con le banche Ma sicuramente In un periodo Così straordinario La metodologia Del merito Credizio Ha rispettato Quelli che sono I crediti Diciamo Lo standard Ordinario Ossia La banca Non ha tenuto conto Della straordinarietà Della crisi Pandemica Ha valutato Degli indici Dei rating Aziendali Che non potevano Essere tenuti conto Visto il periodo Storico E quindi Quello ha causato Tutta una serie Di proroghe E di Come dire Anche di Affidamenti Con garanzie Personali Nonostante Che nei primi decreti Ci fosse stata L'elencazione Da parte comunque Del presidente Deve consiglio Di avere comunque Garanzie da parte Dello Stato Quello che è anche Capitato E che molto spesso Mi è stato raccontato Che se Un'azienda Aveva un affidamento Gli hanno fatto Rientrare Dall'affidamento Per poi Dargli Ti confermo Questa cosa Perché è successo Proprio alla nostra azienda Noi abbiamo fatto Un'azienda solida Diciamo Di tre generazioni Noi siamo Un'azienda Comunque Stiamo nel mercato A 1975 Quindi Tornando al discorso Del merito Se io Sono nel mercato A 1975 E non ho mai dato Alcun problema Al circuito Interbancario E non ho mai poi Chiede di rientrare Gli affidamenti Con la garanzia Quindi In un anno così Particolare Quindi Le banche Si sono messi A sicuro Facendo dei consolidamenti Così facendo Hanno chiuso Le nostre Linne di credito Facendo così Loro si sono messi In protezione Mettendoci in ulteriore Difficoltà A noi con la liquidità Quindi hanno spostato Semplicemente Il rischio Da voi Allo Stato Sì Anche se Ti devo dire Che allo Stato Anche se hai lavato le mani In questa situazione Quindi Noi siamo rimasti Un po' come Cristo sulla croce Nel senso che Nessuno si è occupato Della nostra filiera Ma Di tutto il comparto Imprenditoriale Infatti le vostre Le vostre due categorie Sono state Due delle categorie Meno salvaguardate Domanda Prima di Tu hai fatto Due anni fa Pensavi di fare La BMT E non l'abbiamo più fatta Molte aziende Che tu fornivi Probabilmente Avranno avuto Delle vicissitudini Che tipo di storie Ti è capitato Di vivere insieme Ai tuoi clienti Che sono gli espositori Che sono i tour operator Che sono le agenzie di viaggi Che vengono da voi Per vedere le novità Del mercato turistico Sì Diciamo che Fortunatamente I rapporti erano tali Che Nonostante la cancellazione A pochi giorni Dalla manifestazione Sono rimasti distesi Quindi Le aziende hanno sofferto E stanno soffrendo con noi Alcuni hanno congelato il credito E quindi hanno Aspettato Pazientemente Che arrivasse Il 2021 Per partecipare alla fiera Altre aziende Che magari più piccole O con qualche difficoltà Hanno chiesto il rimborso Di quanto avevano versato Cosa che noi abbiamo Prontamente fatto Ci sono delle situazioni Che sono state gestite Ovviamente Caso per caso Perché Sono situazioni eccezionali E le hanno trattate Come situazioni eccezionali Io mi rendo conto Che Come Il nostro settore È rimasto bloccato Totalmente Per un anno Così Anche il settore Del turismo Così Anche il settore Diciamo Tante altre attività Hanno sofferto E quindi è chiaro Che dobbiamo Tenermi conto Non possiamo Lavarcene le mani Dobbiamo ripartire Tutti quanti assieme Con uno sforzo comune È necessario In questo momento Intervenire Con attività straordinarie E con capabilità Quindi portare avanti Quelli che sono I progetti Che sono le attività E non Non incrociare Le braccia In attesa Di una Situazione Che si Consolidi Da sola Non ci sarà Una soluzione Non sparirà Tutto in un minuto Quindi ovviamente Dobbiamo imparare A convivere Con questa nuova situazione Dobbiamo trovare Delle soluzioni Nel rispetto Ovviamente Delle problematiche Che dobbiamo affrontare E dobbiamo portare avanti La nostra attività Quindi Quello che mi stupisce Dei vostri interventi Che sono stati quasi All'unisono È la vostra umanità Cioè Compenetrarvi Nel problema Del cliente E quindi Praticamente Fare Corporativismo E questo poi Sarà oggetto di Continuiamo Le cartelle Fino a 5.000 euro Saranno Dal 2000 Dal 2000 Al 2010 Estinte per legge Solo se Persone fisiche I soggetti diversi Hanno un reddito Inferiore A 30.000 euro Ora La domanda è Bisogna La domanda che ci fanno Bisogna presentare L'ISE? Assolutamente no Secondo Ricordi normativa Questa forma di sgravo Sarà automatica Quindi avverrà Di default Da parte dell'agenzia Quindi loro faranno Dei controlli Sul codice fiscale Sarà direttamente L'agenzia delle entrate Che tramite I propri canali telematici Valuteranno Caso per caso Se rientra nei parametri Chi rientra Avrà lo sbravo In automatico E il contribuente Non dovrà fare Assolutamente nulla Però ovviamente Ci si riserva Di vedere I decreti attuativi Che il MISE Dovrà emanare In questi giorni Quindi questa cosa È vera O non è vera Massimo? È vera perché È legge Ovviamente però Ci saranno i decreti attuativi Che ci diranno In che modo Ottenere questo beneficio Ma allo stato attuale A rigore di norma L'articolo 4 Ci dicono che il contribuente Non deve fare assolutamente nulla Sostanzialmente Riprende la vecchia Rottamazione Aumentando sostanzialmente Il valore Da 1000 A 5000 euro Altra domanda Chi nel 2020 Ha subito Una riduzione Del 30% Non pagherà Ne interessi E ne mora La domanda Che mi fanno A me Ma se noi Non possiamo pagare Anche se ci levi Le more E ci levi gli interessi Ma noi Queste cartelle Le dobbiamo Rinnovare Come debito? Le dovete rinnovare Faccio un esempio Un ascoltatore mi ha detto Io ho fatto una realizzazione Salda e straccia Per 10.000 euro Ho avuto delle vicissitudini Legate al covid Anche prima del covid Una realizzazione Salda e straccia Io ho fatto una realizzazione Un salda e straccia Con la realizzazione Ma le rate purtroppo Non le ha potuto rispettare La domanda Che ti faccio Al posto suo E quello che poi Lui mi ha scritto In modo diverso Ma il senso è quello Io non sono riuscito A rispettare Le date Delle scadenze Che abbiamo concordato Posso rifare Un rateizzo Sulla parte restante? La parte restante No Per chi ha in corso Attualmente La rottamazione Terra O il vecchio salda e stralcio C'è stata la proroga Dei pagamenti Delle rate scadenze Nel 2020 Entro luglio 2021 Le rate scadenze A novembre Novembre 2021 Superata queste date Cinque giorni di tolleranza E si dovrà pagare Tutte le rate arretrate Però diciamo Come sempre Come mi sembra Sempre di ascoltare Poi le imprese Lo Stato Leggifera Gli imprenditori Galoppano Ma non hanno mai Un obiettivo comune Perché camminano Su due binari paralleli Perché Allora Sicuramente Perché non fate Tavoli di concertazione Voi commercialisti Non siete solo Cioè come si diceva Un tempo di ragionire Ma siete veramente Un punto di incontro Tra quello che è Il mondo delle imprese E quello che è lo Stato Perché voi Tramite la vostra attività Mettete in regola Con i pagamenti Le imprese Perché non ci sono Questi tavoli concerti Permettimi di dire Soprattutto adesso Dove lo Stato Ha praticamente Sobbarcato A noi commercialisti Multicomere Anche di controllo Sui propri clienti Che l'agenzia Dell'entrata E lo Stato Di verse Non riesce a fare Quindi con Antireciclaggio Due diligenze Sui propri clienti Quindi voglio dire Anche sotto questo aspetto Insomma Siamo particolarmente Gravati A volte cercando Di inclinare Un rapporto Di fiducia Con il cliente Che giustamente Vuole sapere Noi da che parte Stiamo sostanzialmente Piccola parentesi umana Prima di ritornare A una cosa più Importante Alla serata Che è il decreto di storia Di cui tutti Mi dovete dare un contributo Gennaro La cosa bella Che ho sentito Negli interventi Dei due rappresentanti Delle imprese Una cosa veramente bella È l'umanità Vedi Hanno parlato di Venersi incontro Aspettare insieme Non darsi per vinto Cogliere le opportunità Sono tutti spunti interessanti Sì Nel momento del bisogno Avvengo alla domanda Nel momento del bisogno Noi poi Ci umanizziamo un po' di più Ci veniamo un po' più incontro Eh sì certo Perché siamo Una Diciamo Una razza Molto resiliente Diciamo Un genere molto resiliente E la resilienza Si basa su questo Sulla solidarietà E come dice Cozzolino Perché siamo napoletani Siamo ancora più resilienti Ma certo Perché Dice Darwin Che è stato poi Interpretrato Scorrettamente Che Le specie Che Durano di più Che sono più Longeve Sviluppano Una particolare Fitness Fitness Fino ad oggi Questa parola È stata tradotta In Adattabilità Ma in verità Fitness Significa Solidarietà Quindi C'è stata Un'errata Non so quanto Malevole Interpretazione Da parte di Molti studiosi Di una frase Di Darwin Fondamentale Sono le specie Più solidali Che sono destinate A sopravvivere Più solidali Solidali Sì Perché fitness Significa solidarietà Fitness è l'incontro No Fit Incontro Chi gioca a Biric Sa benissimo Che Diciamo Le carte Fittano Il Biric Illustraci Il Biric è un gioco di carte Nel quale si gioca in coppia E se le coppie Solidarizzano Vincono Quindi Allora ripetiamo Questo concetto Che è bellissimo Di Darwin Le specie Più solidali Sono quelle Che vanno più avanti Bellissimo Ed è scritto Il nostro DNA Scusa Io vorrei dire una cosa Sull'agenzia delle entrate Perché Mi sembra importante Che non sia una cosa Buonista però No è chiaro È molto cattivista Che sia verità Allora Diciamo che La situazione attuale Ritornando alla metafora Gennaro però Devi far vedere In camera La situazione attuale Tornando alla metafora Delle foglie È che Gli imprenditori Ventilano E lo Stato Aspira È questa situazione È Diciamo Particolarmente Difficile In un momento Come questo Vorrei che il commercialista Mi confermasse Anche la mia idea Nel quale Noi sappiamo Che Moltissimi Dirigenti Dell'agenzia Delle entrate Ricoprono Il loro ruolo In modo Non Legale Perché Sono stati Messi In quel posto Senza Un concorso pubblico Come la legge Prevede Voi immaginate Questo che significa Che naturalmente Queste persone Sono Ricattabili Da chi Ha Li ha fatti Promuovere Senza Dici tu Ci sta una longa Manus politica Questo è chiaro però C'è un'altra cosa Adesso stanno facendo Il concorso Ma Stanno dando Un punteggio Preferenziale A chi Ha esercitato Queste funzioni Fino adesso Cioè Si arriva Al punto tale Che lo Stato Premia L'illegalità Pur Di mantenere Alla Secondo me Però c'è un passaggio Come il condono edilizio Cose fatte Fanno il condono Tu confermi Questa condizione C'era stata una situazione Del genere Che però In corso dopo È stato sanato Una sorta di condono Per tutti quegli accertamenti Firmati Da questi funzionari Infatti Questa è una cosa importante Da dire Controllate che i vostri Accertamenti Siano firmati Da dirigenti Che avevano il diritto Di firmarlo Allora però Diciamo che abbiamo Un attimo Passato Il problema È questo Che il legislatore Che ordina All'agenzia È entrata Che è una sua mano operativa Di fare delle cose Il problema Non è Nell'operatore Anche se non è corretta La sua assunzione Ma il problema Grave Serio È che il legislatore Non ha la sensibilità Che hanno gli ospiti Di questa Se ne studio Questo è il problema Questo è il problema Per Decreto Restori Chi ne ha diritto Allora Mi hanno chiamato Mi ha chiamato Una persona squisita Mi ha chiamato Perché generalmente Mi mandano i whatsappini Mi ha chiamato Una persona anziana E mi dice Guardi Io Non dichiaro tutto Non mi è arrivato Nemmeno un euro Di ristori Ha detto mia moglie Tu sei scemo Allora praticamente Vogliamo spiegare Che tipo Allora Si dice normativamente Decreto di storia Prego Peppe Di mettere L'ultima slide Tutte le Ne hanno diritto Tutte le partite IVA Quindi La piccola azienda E l'artigiano Esatto Che hanno avuto Un calo medio mensile Superiore al 30% Nell'anno 2020 Rispetto Al 2019 La domanda Che io ti faccio Sì Il vecchietto È stato epitetato In cattivo modo Dalla moglie Ma Il sommerso Non solo A Napoli E non solo Al sud Ma in Italia È tanto Perché la pressione Fiscale Probabilmente È tanta Queste persone Non avranno Nulla Ovviamente Se L'evasione Fiscale Che hanno fatto Ovviamente L'evasione Fiscale Per Sopravvivenza O evasione Fiscale Pure Se per sé Gli ha comportato Di non avere Un decremento Del 30% Del fatturato Medio pensile 2019 2020 Sì Non avranno nulla Scusami Però voglio farti Una domanda Perché È importante Che la gente Lo capisce Perché Spesso Chi è imprenditura Si pensano Che praticamente Si dice a Bolzano Pulisci Cinella Si risulta Un coppo cavallo Che è un termine Bergamasco Detto ciò Se L'imprenditore Fa Commercio O servizi Il 30% Spesso Non è nemmeno Il margine Perché non hanno Quel margine Hanno una margine Più basso Ma infatti Come fa Un'azienda Faccio un esempio L'azienda Di Cantilla Il 2019 E il 2020 Doveva fare la manifestazione Ha incassato Ma non ha guadagnato Anzi Ci ha perso Perché Lui deve avere Meno Ristori Rispetto Poi Ad altre aziende Che fa Nascendo Un commercio Diverso Che poi voglio capire Questi ristori Massimo Ma che è andato bene Allora Chi è stato ristorato Allora Secondo me È andato bene Chi non ha avuto Necessità del ristoro Chi ha avuto la possibilità Di Restare aperto Di continuare a lavorare Di tutti quei settori Che invece con la crisi E ce ne sono Paradossalmente Hanno avuto Un incremento Del fatturato Sono andati bene loro Chi ha avuto Il ristoro Chi ha avuto La necessità Di chiedere il ristoro Non è andato bene Perché ha avuto Il caro del fatturato E ha avuto Sostanzialmente Un ristoro Che Voglio dire È un ristoro Insomma Un sostegno Lo dice stesso la parola Non lo dice neanche A coprire Ci sono aziende Di abbigliamento O agenzie di viaggio Imposti veramente Importanti della città Che pagano 4-5 mila euro Di fit Se il ristoro È di 2 mila euro Come sto sentendo Questi imprenditori Come fanno Allora Se hanno Ad esempio Se l'agenzia di viaggio Si trova In una La propria attività In un locale C1 Quindi Adibito A negozio Con un contratto Di erogazione Debitamente registrato Puoi chiedere Di 60% Di erogazione Come credito Di imposto Ma questo è un ulteriore Questo è importante Allora Per tutte le aziende Che stanno in difficoltà Sicuramente Io parto dal presupposto Che noi siamo Essendo una proprietaria Non siamo furbi Ma siamo Resilienti Quindi Noi che paghiamo Regolarmente Un contratto di fitto Abbiamo questa opportunità Ce la ripeti un attimo Allora Di quello che L'importo Che noi paghiamo Esatto Il 60% Lo possiamo recuperare In credito di imposto Che è cedibile Al proprietario Ovviamente Questo solo Al proprietario E' cedibile O possono pagarsi Anche le tasse Per esempio Il credito di imposto Serve per pagarsi Le tasse Loro le utilizzano In compensazione Per pagare Le lire Quindi non ha maturato Tasse da pagare Esatto Chi invece Sta diciamo Fisiologicamente A credito Perché ovviamente Ha avuto più costi Può utilizzare Questo credito Cedendolo Sostanzialmente Al proprietario Questo però Solo su determinate Mensilità Fino alla mensilità Di marzo E poi La categoria Deve essere C1 Categoria C1 Quindi Per qualsiasi dubbio Voi avete 339 6357 718 Oppure Chiamate Massimo 081 198 12 836 Perfetto Allora Decreto ristori No Io ti volevo Stavo venendo Proprio da te Grazie Sei stato ristorato Assolutamente No Noi con due aziende Siamo stati esclusi Dai ristori Con la prima azienda Perché abbiamo Non siamo arrivati A quella quota Del 30% Con l'altra azienda Perché superiamo La quota Dei 10 milioni Quindi dal mio punto Di vista Penso che Questo decreto Ristori Che alla fine È un decreto Ristori Bis Poi l'hanno chiamato Decreto sostegno È stata una misura Sotto il profilo Diciamo Della quantità Della cubatura Inefficiente E sotto il profilo Della equidistribuzione Non è stata Né equa Né solidale Io faccio sempre Riferimento al settore Della moda Perché Fallo perché È un settore Che non ha molta voce Sai Non ha molta voce È anche vero Che comunque Il settore della moda Ante covid È un settore Comunque Per l'Italia Cubava 80 miliardi di euro Tu prima hai fatto Degli esempi Importanti Sul debito pubblico Cioè Un settore della moda Che cuba 80 miliardi di euro Tu non puoi Non valutare Altri indicatori Il settore della moda Durante il periodo Della pandemia Con i negozi chiusi Con le attività produttive chiuse Ha verso Ben oltre Il 30% Ad appannaggio Ricordiamo Di multinazionali Che spesso Le tasse non le pagano Ad appannaggio Di multinazionali Che Anche di aziende nazionali Che hanno dislocato Le loro sedi legali All'estero E quindi Hanno avuto poi Dei benefici Che vanno ben oltre Quanto tempo hai perso Per preparare La documentazione Che hai dato Al tuo Massimo Sull'analisi statistica numerica Completa Completa Un nuovo decreto Un nuovo decreto Fatturata È andato ben oltre il 30% È andato ben oltre il 30% È andato oltre il 50% Il 60% Io con l'altra azienda Come ho detto prima Sono stato fortunato Perché mi sono adattato Al mercato Quindi ho avuto Un decremento inferiore Ma anche lì Per dire Un 27% Per tre punti Non ho soffritto Figuratevi chi ha avuto Un decremento Il 29 Allora Parliamo Di una cosa Delle informazioni Spesso Ne abbiamo fatto Questa puntata Speciale bonus Perché spesso Con i commercianti Non si parla Io volevo parlare Con il dottor Candella Di una cosa Bella Voi fate parte Di un'associazione Di imprese Sì Fieri associati Fieri associati Vi siete scambiati Informazioni Su tutte queste Enormità di bonus Normative E quant'altro Sì Noi Con Fieri associati Rappresentiamo Il 90% Delle attività Fieristiche Congressuali Che si fanno In campagna Siamo riusciti Ad associarci Proprio per la necessità In cui ci siamo Trovati tutti quanti E abbiamo scambiato Delle informazioni Abbiamo portato avanti Delle Delle attività assieme Abbiamo interloquito Con le istituzioni Con la mostra L'Oltremare Che è il principale Quartiere feristico Che c'è a Napoli E diciamo Che abbiamo raggiunto Dei risultati E ci proponiamo Di raggiungerne Diciamo Anche Di migliori Nei prossimi mesi Ora Quello che Per noi È stato importante È capire Che alla fine Il settore delle fiere È stato bloccato Completamente La perdita Che noi abbiamo avuto È stata enormemente Superiore al 30% Parliamo del 70-75% Ciò nonostante I ristori A cui abbiamo avuto diritto Sono stati invece Estremamente limitati Perché Per una serie di motivazioni Il mese famoso Preso in considerazione In un mese Che era sfortunato Per noi Quell'anno Quindi Comunque Diciamo che È risibile Il ristoro Che abbiamo avuto Rispetto Al volume di affari Due domande Ti voglio fare Come organizzazione Sicuramente Avete avuto Una voce Un po' più grossa I tuoi interlocutori Regionali e nazionali Come hanno Reagito Alle vostre sollecitazioni Dunque Noi Siamo l'unica Azienda privata Che è associata Alla EFI Che è l'associazione Parliamo della Progetta Che siamo associati Alla EFI Associazione Enti Fieristici Italiani E noi siamo organizzatori Non essendo ente fieristico Associati all'EFI Ed è l'unica Draghi Pochi giorni fa Ha detto in conferenza stampa Le fiere devono ripartire Ci sono delle fiere importanti Tra maggio e ottobre È importante che si riparta subito Questo input così forte Gli è stato dato Dal presidente danese Presidente dell'EFI Non danese di nazione Danese di cognome No danese di cognome Presidente di Fiera di Bologna E presidente dell'EFI Ora È chiaro che fa parte Di una parrocchia grande Offre sicuramente Delle opportunità migliori In più in piccolo In campagna Con l'associazione Fiere associate Abbiamo interloquito Con la regione Con il comune Con la mostra d'oltre Con la Camera di Commercio In che modo vi hanno risposto E come vi hanno accolto Dunque Come ci hanno risposto Ci hanno dato massima disponibilità Verbale Non ci hanno dato Un supporto reale Abbiamo avuto La soddisfazione Di parlare Con il presidente Della Camera di Commercio Con gli assessori competenti Della regione Del comune Ma all'atto pratico Se devo dire Che abbiamo raggiunto Un risultato Non lo abbiamo ancora raggiunto Dico Non lo abbiamo ancora raggiunto Perché ci sono Delle trattative in corso La regione Campania È l'unica regione In Italia Che non ha Una legge quadro Sulle fiere È l'unica regione Pur avendo L'obbligo L'obbligo europeo Parlaci di questa legge quadro Che ci sta Negli altri regioni Perché è interessante Per gli ascoltatori È la legge Che diciamo Dice Quali sono le caratteristiche Che deve avere una fiera Per essere una fiera internazionale Rispetto ad una fiera nazionale O ad una fiera locale Ricordiamo che alcuni bandi Per partecipare Alcuni bandi Della Camera di Commercio Per partecipare ad alcuni bandi Bisogna essere fiera nazionale O internazionale Perfetto E noi per avere questo riconoscimento Ecco perché siamo iscritti Alla EFI Abbiamo dovuto chiedere Questo riconoscimento Tramite un organismo esterno Alla regione Che ha la possibilità Di certificare A livello nazionale E internazionale Una determinata fiera Però Non è questa la strada corretta O meglio Non è corretta per tutti Noi abbiamo Le spalle forti E siamo riusciti A raggiungere questo obiettivo Ma sono tante Le manifestazioni Validissime Che si effettuano In campagna Che non raggiungono Questo risultato Perché manca Questa legge quadro Però Abbiamo avuto Assicurazione Dalla giunta regionale Che si discuterà Nelle prossime sedute E si cercherà Di legiferare Entro Diciamo Gli inizi Entro il prossimo autunno Anche perché Ci sono tantissimi Bande europee Vorrei che tu ne parlassi Proprio sulle fiere Per partecipare alle fiere E molto spesso E' capitato anche Durante le due fiere Che esponenti Di altri enti Feristici Parigini Londinese E quant'altro Londra Quando era in Europa Oggi con la Brexit Non lo è più Chiedevano la partecipazione Ad altre fiere Quindi questa legge È fondamentale Voi vi batterete Per questo tipo Di conoscimento Noi ci batteremo Ci stiamo battendo E continueremo a batterci E' molto importante Anche perché Sono tantissime le aziende Italiane Nel settore della moda Ma in tutti i settori Della produzione Che partecipano alle fiere Nazionali E internazionali Ed è chiaro Che avere la possibilità Uno dei più famosi L'abbigliamenti È il Pitti No? E anche Milano Unica Una fiera internazionale Molto importante Diciamo che Che avere la possibilità Di avere un supporto economico Per partecipare Ad una manifestazione feristica Certamente Mette in grado L'azienda Di partecipare In modo più adeguato Più corretto Permette Degli investimenti Anche maggiori E avere un ritorno Sul territorio E' chiaro Che un'azienda Di produzione Campana Che si va a promuovere All'estero Riesce ad ampliare Quelle che sono Le sue attività Sul territorio Quindi Non dimentichiamo Che è una fiera Ha un indotto enorme Ogni azienda Che produce Sul territorio campano E che poi esporta All'estero E' un'azienda Che fa crescere L'economia Del territorio Quindi Volevo dare Un'informazione Oltre che All'ABMT Con una grande fiera Voi fate Tante altre fiere Voi fate La Farmespo Dove addirittura L'anno scorso Avete introdotto La celiachia No? Certo E molte aziende Produttrici Da tutta Italia Sono venute qui E poi Una cosa molto bella Che fai È l'Agustus Come no? Dove piccole e piccolissime imprese Riescono ad esporre Quindi quello che tu dici Potrebbe essere Incentivante Con degli sgali fiscali Con degli aiuti Noi Al momento Siamo tutti Orientati Alla fiera di maggio Però abbiamo Ben tre fiere Che organizziamo Direttamente Sono fiere internazionali Anche queste Nel mese di Tra novembre e dicembre Quindi Gustus Che è dedicata All'alimentazione Ed è una manifestazione Che vede l'eccellenza Della produzione campana Dalla torrefazione All'olio Dal vino A prosciutto All'olio 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 Ovviamente È ovviamente Declinata In tutte le sue Numerose Possibili attività Oltre modo Avete anche Degli show cooking Abbiamo degli show cooking Abbiamo dei buyers Stranieri Che vengono in campagna Appositamente Per incontrare I produttori Un attimo Se io vorrei Che tu ripetessi Quando si fa una fiera Alla mostra D'oltremare Il produttore Di pomodori Di angri Di pagani Di pianura Conosce Il buyer Che poi esporta All'estero Le nostre eccellenze Esatto Quindi voi fate Matching E fate crescere i mercati Noi facciamo Un vero e proprio Borsino Cioè ci sono aziende Che vendono La loro produzione Intera dell'anno All'estero A questi signori C'era un signore francese Molto garbato Che ha usato L'espressione Francese Di attraverso il rubinetto Della mia azienda Si vende tutta la mozzarella Che arriva dall'Italia Alla Francia Quindi in realtà È chiaro che Ci sono dei volumi Molto molto interessanti Quindi È importante Partecipare alle fiere Per promuovere La propria azienda La propria attività E il proprio territorio Dopo il Gustus C'è il Farm Expo Che è una manifestazione Dedicata alla farmaceutica Dove abbiamo Aziende nazionali Multinazionali Che partecipano E che incontrano i farmacisti Che sono Il primo presidio sanitario Che esiste sul territorio Hanno avuto Diciamo Un carattere Un carattere Diciamo Sociale Estremamente importante Sì Concludi così Praticamente Faccio una domanda Finale Agli altri ospiti Prego Concludo Dicendo Un'ultima cosa Sui farmacisti A cui sono particolarmente legato Perché mia moglie è farmacista I farmacisti Cominceranno Dalla settimana prossima A fare il vaccino In farmacia Questa è un'altra cosa Molto importante E diciamo Cercheremo di avanzare Di velocizzare La risoluzione Di un problema E poi Dulcis in fundo Archeda È una manifestazione Expo franchising Expo franchising Quest'anno È difficile Archeda È dedicata All'architettura All'edilizia E al design Quest'anno Ci stanno Ecobonus Sismabonus Quindi gli architetti Stanno lavorando E infatti È un settore In grandissimo fermento In grandissimo fermento Bene Allora Fasi finali Massimo Santoro Allora oggi abbiamo parlato Di tantissimi bonus Poi naturalmente Tutti quelli che ci volete chiedere Ce li chiedete Ce li whatsappate Telefonate Non ci sono problemi L'imprenditore di oggi Non ha più bisogno Di chiacchiere Come dice Praticamente Antonio No? No? No abbiamo bisogno Di cose concrete Però abbiamo bisogno Anche di commercialisti Che informano Certo è chiaro In che modo Gli imprenditori E le imprese Possono informare Prego Allora Dagli un consiglio spot Allora Informarsi ovviamente Tramite i canali istituzionali Che hanno messo a disposizione Quindi andare Come dire Quanto è più possibile Sì Tramite l'ausilio Dei propri consulenti Dei propri commercialisti Ma come dire Cercare di approfondire In proprio Quello che Possono essere La normativa E capire Ecco Il bonus La legge Oppure l'incentivo Che può fare più Al caso suo Cioè Quello che vi dice Massimo Non avete paura Di fare le domande Al vostro consulente No Di essere proattivi Cioè nel senso Di sollecitare Il proprio consulente A fargli accendere Un campanello D'allarme Su quello che può essere Le proprie criticità Dove hanno bisogno Di maggiore attenzione Se hanno bisogno Di liquidità Piuttosto Di patrimonializzare L'azienda Quindi come dire Di non aspettare Il consulente Che alzi il telefono E vi chiami Ma fate il contrario Fateli lavorare Telefonate 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 Fateli lavorare La tua conclusione Breve ma incisa Allora Primo Vorrei dire Che L'esempio di fitness Al quale mi riferivo È stato perfettamente Realizzato In occasione Delle fiere Delle quali Ci ha parlato Cantella Cantella Incontro Tra compratori E produttori Diretto Che fa Dell'attività Economica Un'attività Solidale Cioè dove Tutti guadagnano In una condizione Dove tutti poi Sono garantiti Di avere Il massimo Dei vantaggi O il minimo Dei vantaggi Secondo Oltre al mantra Usate anche Dopo però Ce lo farà Tutti quanti insieme Usate anche Un'altra tecnica Che si chiama Visualizzazione Creativa Immaginatevi Come se voi Foste Una foglia D'autunno Che cade Dall'albero Ed è spinta Un po' Dal vento Un po' Da questo strano Movimento Che essa stessa Crea Dove finite Come foglia Su un lago Su Diciamo Una zona Sporca Cercate di Lasciare Funzionare La fantasia Senza problemi Quando Arrivate Alla conclusione Cioè Visualizzate Dove siete finiti Se non vi piace La distillazione Alla quale siete arrivate Ricominciate da capo E cercate di cambiare Il film Che vi siete fatti Attraverso Dei piccoli Cambiamenti Cioè Non cominciate subito Da Non sono finito Più in una foglia Ma sono finito Diciamo Nel lago dei cigni Provate Prima a fare Piccoli cambiamenti In termini Di temperatura Di colori Di cose Eccetera Una volta Che l'immagine Vi soddisfa E che la vostra Destinazione Vi soddisfa Cercate di ripeterla Prima Di addormentarvi Io vi assicuro Per diretta esperienza Che visualizzazioni Di questo genere Sono molto potenti Nel mantenere Saldi I nervi In una crisi Del genere E soprattutto Nel cogliere Al meglio Le opportunità Che questa crisi Ci offre Gennaro Scusami Però A questo punto Oltre Dopo lo facciamo Che mi piace Proprio questa cosa Devi dire I tuoi riferimenti Che non te l'ho fatti dire Quindi li devi dire Perché se io voglio visualizzare Ho bisogno del tuo aiuto Dove ti posso contattare Gennaro? Allora Mi possono contattare Presso l'ISPREF In via Manzoni 26B A Napoli A Napoli Perché questa è una televisione regionale Al telefono 0817146362 Allora io concluderei Nel dire tutti quanti insieme La crisi non è colpa mia 1,2,3 La crisi non è colpa mia Buonasera 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 Buonasera